All'Arcidiogeci di Agrigento, l'Ufficio Cultura, lo studio teologico San Gregorio Agrigentino, in collaborazione con l'Amico del Popolo, organizza presso la Chiesa di San Lorenzo una tre giorni dedicata dal tema creazione, decreazione e ricreazione. Ne parliamo con Don Vincenzo Lobbino, che tra l'altro è anche il curatore del progetto e dei testi. Sì, curatore dei testi, ma del progetto insieme all'Ia Rocco. Abbiamo voluto quest'anno riprendere un'iniziativa del Vaticano, che si è presentata alla Biennale di Venezia per la prima volta con questo tema, creazione, decreazione e ricreazione. Presentandolo quindi a un pubblico molto vasto, diciamo anche laico, perché nel contesto della Biennale di Venezia alcuni artisti moderni hanno inteso, hanno reinterpretato questo tema, questo tema molto ampio. Noi l'abbiamo ripreso dunque, l'abbiamo proposto e lo proponiamo secondo una modalità che ormai è abbastanza collaudata, in cui facciamo intervenire la riflessione biblica, la recitazione e declamazione dei testi e la ricomprensione di questa tematica da un punto di vista artistico e da un punto di vista musicale. Infatti ogni sera avremo questa alternanza di artisti, di storici dell'arte o del cinema che ci presenteranno lo stesso tema come è stato vissuto da secoli e secoli, perché è da secoli che l'uomo riflette sulle sue origini e su quella che è appunto la decreazione che noi chiamiamo anche peccato. Il 2 ottobre ci sarà il primo appuntamento dal tema Eden. Il tema è l'Eden, è il giardino dell'Eden e naturalmente è il momento, come dire, positivo, ma è anche molto importante perché è da questo momento della creazione che anche noi possiamo comprenderci, possiamo comprendere il nostro rapporto con il creato, un tema quindi molto attuale anche per Agrigento, dove purtroppo noi vediamo che il creato viene abusato da tutti i punti di vista, e dal punto di vista dell'abusivismo e dal punto di vista dell'inquinamento e dal punto di vista anche di una mancanza qualsiasi di rispetto della natura. Non è solo Agrigento ovviamente, ma noi vediamo sotto i nostri occhi come questo purtroppo si attua regolarmente dalle nostre parti. Ecco, la creazione, l'Eden, questo ci fa comprendere anche il rapporto, il rispetto che noi dobbiamo al creato. Grazie. 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 Grazie.